Esatto, che è elezione indiretta ovviamente. Ma lei voterebbe Draghi al presenza della Repubblica? Guardi, io vedo che stiamo facendo un gioco sul Quirinale che ci sta permettendo una sola cosa, di perdere i migliori, cioè stiamo giocando, e si sta giocando, a bruciare i nomi. E vedo che qualcuno lo fa perché secondo me sta affrontando l'elezione del Presidente della Repubblica non in ottica di una guida solida del Paese, ma lo sta facendo in maniera tale da causare le elezioni o evitare le elezioni. Io mi permetto di dire, su questo, che noi abbiamo bisogno di una guida solida e non di una crisi politica. Ma se lei o mi dice, non mi parli in questo linguaggio che non capisco, chi sta facendo questo gioco? Chi oggi sta facendo i nomi e sta giocando con i nomi, sta giocando a bruciare i nomi perché mancano tre mesi all'elezione del Presidente della Repubblica. Anzi, voglio fare un appello alle forze politiche, cerchiamo di decidere il Presidente della Repubblica con lo stesso spirito con cui abbiamo costruito questo governo, la responsabilità nazionale e non i giochetti per vedere se andare a votare o meno. Le posso chiedere una cosa?